Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa. Dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona. Nella nostra linea bagno Conad Essenzie, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi. Come il nostro bagno docce rilassante Conad Essenzie con estratti naturali. La migliore qualità a 1,70 euro. Bassi e fissi. Qualità e convenienza che non temono confronti. Questa è una nave di quasi 200.000 tonnellate di stanza lorda che porta oltre 6.000 passeggeri e quasi 1.500 membri di equipaggio quando opererà appunto con i passeggeri a bordo ed è una nave che è dotata di tutte le tecnologie più avanzate per quanto riguarda sostenibilità. Dalla propulsione a gas naturale di quefatto a tutte le tecniche e le tecnologie per la separazione totale dei rifiuti a bordo per quanto riguarda in un'accezione più ampia il risparmio energetico. Siamo qui oggi per guardando al festival e guardando al futuro. Costa Concordia è un pensiero che noi abbiamo e sul quale abbiamo lavorato e abbiamo continuato a evolvere da quel giorno. L'essere qui oggi al festival per la prima volta è un momento storico, in un momento storico di pandemia che vuole anche aiutarci a guardare al futuro, vuole guardare come azienda leader del turismo italiano ed europeo ad un futuro che sia un futuro di ripartenza, che sia un futuro di generazione di valore e di condivisione del valore per un comparto che è quello del turismo che ricordiamo in Italia ad esempio vale oltre il 10% del PIL e una crescita sostenibile e continuativa per il sistema Italia non può avvenire se tutto il sistema turismo non continua a crescere, non torna ai volumi in cui era abituato. Ma lei sta qua 24 ore al giorno, dorme qua, fa una vita che crociera, ma cosa fa questa giornata? No, facciamo i video di Arovazzi, facciamo i video per far vedere com'è la nave, poi dopo dobbiamo fare dei duetti, poi faccio le interviste, poi faccio le dirette, stiamo nel caffè di un minuto, abbiamo un calendario ogni giorno. Perché di solito in crociera si balla, si gioca? Tutte le crociere che ho fatto, ho sempre fatto il concerto e quindi ero presa, musicisti, nuova l'angustica del teatro, musica prima del teatro, perché questa c'era un'angustica, un'altra cosa che ho avuto. L'ho fatto per tanti anni, ma sempre gratis, perché li facevo per famiglia cristiana, siccome il direttore, il sortino era mio amico, e mi diceva ma ti puoi imbarcare almeno due o tre giorni, fai il concerto per i nostri lettori, quando tu puoi scendere? In quel periodo io facevo Buona Domenica, l'ho fatto per cinque anni e per cinque anni facevo. Il lunedì mi imbarcavo e poi sceltevo il giovedì, perché il venerdì potevo fare tutto il giorno in velocità per quella domenica, poi il sabato c'era la diretta, la prova generale e la domenica andavo in diretta. No, 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 le abbiamo sentite. Devo dire, non proprio tutte, 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 però ci sono quelle che, eravamo nella spa, eravamo nella spa, forse sai che tra la spa e la palazzo ho sentito un pezzo. No, non è vero, l'abbiamo seguito. No, l'abbiamo seguito. Anche vero. Senti, dobbiamo seguirlo, anche per me ci saremo, per me ci saremo, per me ci saremo informati. Aggiornati. Aggiornati.